Aspettiamo un attimo. Questi forse è meglio senza, no? Con, con, meglio con. Con queste ti nota sicuro? Sì, mi nota chi, scusa? Camilla, non sta alle palme? No, 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 guarda, io alle palme non ci vado nemmeno se mi trascini, te lo dico, eh. Beh, allora non ti devo trascinare troppo, perché siamo già qua. Come siamo già qua? Sì, dai, dammi il telefono che devo vederla fatto sulla foto. Ma no, ma sei uno stronzo, dai! Oh! Eccola? Sì. Vieni, amici. Piazza. Ehi! Ciao! Ci conosciamo? Non lo riconosci? No. Ecco, a posto, dai, ce ne andiamo, per favore. Dai, non tirartela, cazzo, sono giorni che messaggiate. Ah, oddio, non ci credo, sei lo psicologo. No, no, psicologo. No, ma non è così la sua voce, eh. È più soffice. Come se ogni parola avesse dentro una risata, no? Sai di quelle risate contagiose che tu scoppi a ridere, anche se in realtà non c'è niente da ridere. Oppure quando senti per la prima volta la musica. Che senti che riempie la stanza e poi ti accorgi che hai riempito anche te. Ecco, io quella voce la riconoscerei subito. Oh. Che ci ha detto qualcosa di male? No. Niente. Non hai detto niente di male. Sei tu? Sì. Scusa se non te l'ho detto prima, è che non volevo rovinare tutto. Vabbè, ma a me davvero non... non mi importa. Senti... non so, ti va di prendere una cosa al bar? Sì. 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 Sì.